Buonasera Avellino e buonasera Avellinesi, ci ritroviamo oggi, lunedì, per il nostro consueto appuntamento e lo facciamo dopo un giorno importante, quello di ieri, il 14 febbraio, un giorno importante sia perché evidentemente era un po' la festa di tutti gli innamorati, di tutti coloro che si amano, ma per la nostra città è stata anche la ricorrenza del Santo Patrono, nel frattempo cominciano a collegarsi un po' di nostri amici, sono sempre molto contento di avervi numerosi ad ascoltarmi, a seguirmi e anche a pormi un po' di quesiti, magari anche a chiedere chiarimenti, Andrea, Stefano, Marco, Raffaele, Ilenia, Rosa, Raffaella, buonasera a tutte voi, a tutti voi, così come ad Anna Rita e anche Stefania, dicevo ieri è stato il giorno di San Modestino, il nostro Santo Patrono, io come al solito ho partecipato anche un po' alla messa che è stata celebrata dal Vescovo e devo dire come al solito è stato molto prezioso Sua Eccellenza Vescovo Arturo nella sua omelia, spunti importanti, interessanti che ci hanno fatto riflettere anche rispetto a come affrontare questa pandemia in questa fase, io tra l'altro ieri ne ho voluto anche approfittare per lanciare un messaggio anche perché abbiamo riqualificato una piazzetta, quella piazza Trieste e Trento che insomma era andata un po' nel dimenticatoio grazie all'ottimo intervento del Assessore Negrone abbiamo riqualificato una zona tra l'altro donando alla città un'opera d'arte significativa, un bacio evocativo detto ieri sicuramente un'opera d'arte che evoca l'amore ma direi anche un'opera d'arte che è di buon auspicio per il futuro come ho detto quel bacio è sicuramente quello tra due persone che si amano ma ci ricorda anche la voglia di tornare a baciare la nostra vita, a riprenderci anche la nostra libertà, a riabbracciare la nostra libertà. Ieri ho fatto i complimenti a tutta la comunità perché ho detto noi abbiamo affrontato una pandemia a mani nude, guardate lo sport nazionale preferito da tutti è la critica, ognuno è bravo a santificare, a pontificare, a criticare si mette dal suo pulpito e senza far nulla si mette a giudicare criticando quello che fanno gli altri, e beh così sono tutti maestri, tutti campioni e noi ne abbiamo un po' di campioni del genere, quella che invece è la verità che è emersa in questa fase è che nonostante abbiamo affrontato un nemico non solo invisibile ma soprattutto sconosciuto noi siamo stati bravissimi, certo c'è stato sicuramente c'è stata qualche leggerezza, qualche distrazione da parte di qualche componente della nostra comunità, ma ricordo che abbiamo affrontato una pandemia, un caso mondiale a cui nessuno era pronto, per cui nessuno immaginava quali potessero essere le azioni da intraprendere per contrastare, e quindi tutti questi maestri, tutti questi guru del virus dovrebbero un po' fare autocritiche e dire oggettivamente rispetto a quello che è stato, la nostra città si è comportata complessivamente molto bene e io posso confermarvi che attualmente i dati sono molto incoraggianti, tra l'altro arrivano oggi più che mai quelli dalla piattaforma Sinfonia, la regione si è attrezzata quindi a noi sindaci arrivano ogni giorno i dati che ci vengono trasferiti dalla piattaforma Sinfonia, in questo momento nell'ultima settimana abbiamo una percentuale di casi positivi sul totale dei tamponi effettuati che è poco superiore al 2%, sotto il 3%, evidente quindi rispetto se non ricordo male all'8-9% regionale, quindi Avellino è circa un terzo o un quarto in termini percentuali rispetto al resto della campagna, è sicuramente un dato significativo che ci consegna un grandissimo lavoro che stiamo facendo, tanti sacrifici, questo è evidente, guardate io ho ricordato perché ieri in pratica in qualche modo abbiamo registrato quasi un anno dalla pandemia, ho ricordato che è stato un anno complicato, un anno di privazioni, ci hanno privato della libertà, della socialità, spesso anche degli affetti, anche di qualche sentimento, è stato un anno di sofferenza perché abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di vita, il nostro stile di vita, le nostre frequentazioni, il nostro modo di essere ed è stato anche un anno triste perché molte persone hanno perso i loro cari, amici, familiari, addirittura alcuni non hanno potuto piangere le persone che hanno purtroppo perso, non hanno potuto trascorrere gli ultimi momenti al loro fianco, c'è qualcuno che addirittura non ha potuto fare il funerale a un proprio familiare o a un proprio caro, questa è stata il nostro anno, dinanzi a queste condizioni, dinanzi a questa cosa straordinaria, la peggiore, ho detto ieri che ci sia mai capitata dal dopo terremoto in poi, noi comunque nel complesso ci siamo comportati bene ed è questo il messaggio che ho lanciato, comunque grazie, bravi per quello che avete fatto, però ora non molliamo, non molliamo, ci manca l'ultimo miglio e soprattutto il nemico sconosciuto finalmente ha trovato il suo avversario, quello che lo può battere, combattere e battere, cioè il vaccino e poiché stanno per cominciare i vaccini, io sono legato anche presso la tendostruttura CONI proprio per verificare lo stato dei luoghi, io mi auguro che in settimana si possa partire con i vaccini per gli over 80, quindi abbiamo finalmente trovato anche l'arma giusta per combattere e sconfiggere questo virus proprio ora non dobbiamo mollare, come ha detto anche sua eccellenza ieri, dobbiamo scegliere di non essere mediocri di non farci sconfiggere in questo momento, dobbiamo affrontare sicuramente con responsabilità, con maturità il virus ma non dobbiamo farci sconfiggere mentalmente in questa fase, questa è la più importante perché veniamo da un anno complicato in cui anche i commercianti hanno fatto grandissimi sacrifici tutti i liberi professionisti, tutti i lavoratori che in qualche modo con grande dignità ogni mattina si svegliavano per andare al lavoro e che a causa di questa pandemia magari hanno perso la loro attività tutti questi sacrifici non vanno verificati, ci manca poco, dobbiamo resistere, stiamo ancora affrontando sacrifici perché è evidente che la questione scuola, che so che sta a cuore a tutti, è una questione che rimane ancora oggi risolta nel senso che è evidente che non siamo pronti a ripartire, quando io tengo ancora in piedi la ordinanza sulle superiori perché non c'è la sicurezza per ripartire avendo la garanzia di un rischio contenuto, significa la mancanza di questa sicurezza che c'è ancora tanto da fare, quando mi dicono, io poi sono costretto a volte a ripetere le stesse cose sindaco, ma perché poi chiudi le superiori alla presenza, nel senso che fai sì che ci sia la DAD per le superiori e non lo fai per le elementari, per le medie o per gli asili perché vuoi ricercare cavie? Ma secondo voi, mi avete guardato? Guardatemi negli occhi, guardatemi negli occhi e soprattutto se mi conoscete, potete mai immaginare che io irresponsabilmente possa far fare da cavia ai nostri piccoli concittadini che frequentano, i nostri figli che frequentano, gli asili, le scuole elementari e le scuole medie. Ma state scherzando? Ma siete completamente fuori di testa? È evidente che, come ho spesso ribadito, il mantenimento delle lezioni in presenza per le scuole fino alle medie, poiché è la legge nazionale che in questo momento tiene aperte quelle scuole e io posso solo chiuderle in presenza di casi che ci diano l'idea di un rischio sanitario? È evidente che la mancanza per fortuna di questa condizione in questo momento non mi consente da sindaco perché io posso agire solo come massima autorità sanitaria in caso di un rischio imminente sanitario. Ebbene, se ho detto che noi siamo, credo, il capoluogo con la percentuale più bassa di casi positivi in rapporto ai tamponi effettuati, evidentemente vuol dire che in questo momento non ci sono le condizioni per fortuna sanitarie che possano giustificare la chiusura delle scuole fino alle medie, chiaramente chiusura di lezioni in presenza. Altra cosa invece è quello che accade per le superiori. Ho ribadito più volte che poiché abbiamo il 70% degli studenti che frequentano le nostre scuole superiori, che provengono dagli altri comuni della provincia e poiché è del tutto evidente, come ogni mattina ci capita di leggere, che in altri paesi purtroppo, nonostante il grande lavoro che stanno facendo i miei colleghi sindaci, a cui va un saluto e anche una grande esortazione, un incoraggiamento, nonostante il grande lavoro abbiamo ogni giorno notizie per cui si registrano cluster in un paese piuttosto che in un altro. Questa condizione di incertezza fa sì che io possa mantenere la DAD per le superiori, non perché sia irresponsabile, ma perché questo è il ruolo del sindaco e soprattutto la competenza che ha un sindaco. Allora noi continuiamo, anche quando mi dicono sindaco, perché non sei partito con lo screening? Diceva la mia insegnante di italiano al liceo, beata ignoranza, beata ignoranza, non sono partito con lo screening perché non competeva a me. risposta banalissima, nel senso che lo screening è stato previsto dalla ordinanza del governatore De Luca a favore di docenti personale ATA e dovrà essere effettuato dall'ASRA, chiaramente sempre su base volontaria perché la nostra Costituzione, giustamente, non prevede un obbligo, ma è sempre una scelta facoltativa in democrazia, c'è la possibilità di scegliere se farlo o non farlo, lo screening però non deve farlo il Comune, anzi, vi dico di più, il Comune, quando sono venuti anche i ragazzi a chiedere sindaco delle scuole superiori, che possiamo fare? Ragazzi, per quanto riguarda il Comune, io posso anche immaginare con un extra sforzo, un ulteriore sforzo di organizzare anche uno screening per gli studenti, proprio perché non è che c'è qualcuno che non vuole far ripartire le superiori, ma devono ripartire in sicurezza. Allora, una volta che l'ASL comincerà a effettuare lo screening per i docenti e il personale ATA, il Comune è disponibile con un ulteriore sforzo, importante, imponente sforzo, a effettuare anche lo screening per gli studenti, chiaramente su base volontaria, e a quel punto, quando avremo qualche dato più certo, potranno ripartire in presenza anche le scuole superiori, ferme restando quelle che saranno poi le decisioni che prendrà il Governo centrale e quello regionale. Questa è la condizione e questo è quello che spetta un sindaco come compito, è quello che tocca a un sindaco attuare le scelte più opportune e più giuste nell'esclusivo interesse della salvaguardia, della salute e della sicurezza della propria comunità. Poi, lasciamo a criticopore, insomma, il solito sport nazionale. D'altronde c'è gente che oggettivamente, non avendo nulla da fare, ed essendo anonima per il resto del mondo, prova a darsi un tono a dimostrare che esiste, magari criticando quello che fanno gli altri in particolare, quello che fa il sindaco. Vabbè, ragazzi, dobbiamo avere un po' di compassione, ci fanno un po' tenerezza queste persone, ma noi che siamo enjoy dentro, per farli stare contenti, accettiamo anche questo, insomma, fa parte della vita e l'importante è che si sentano soddisfatti. Ecco, se si sentono soddisfatti che continuino pure, però almeno che non dicano sciocchezze, insomma, questa storia sta diventando un po' stancante. Quindi, tornando a noi, dobbiamo affrontare questa ultima fase della pandemia con lucidità, con responsabilità. Stiamo facendo un ottimo lavoro, certamente manca ancora un po' di tempo e perciò non dobbiamo abbassare la guardia. D'altronde, se ricordate quello che dissi anche in una delle mie ultime dirette, quando ho ripreso anche le scene a cui ho assistito, ad esempio sui Cappuccini, piuttosto che a Via Matteotti al corso, quando c'è qualche comportamento che non è in linea con quello che dobbiamo tenere, io sono pronto a intervenire, guardate. Poi, certo, lo si fa da buon pare di famiglia, questo è evidentissimo che lo facciamo da buon pare di famiglia, ma perché so che ho di fronte, so che ho dinanzi a me anche una gioventù che non è scapestrata, guardate. Finiamola anche con questo pregiudizio, i ragazzi hanno la testa un po' particolare, pazzarella. No, abbiamo ragazzi a cui, se spieghiamo le cose, se facciamo loro capire l'importanza anche di tenere alcuni comportamenti piuttosto che altri, se li responsabilizziamo, se li trattiamo da persone adulte, guardate che comprendono, non li sottovalutiamo i ragazzi. Dobbiamo usare il linguaggio giusto per far comprendere loro come bisogna comportarsi. E poi vi assicuro che spesso ci sono molti più adulti che hanno qualche distrazione di alcuni ragazzi. Non dico che è comprensibile da parte dei ragazzi, ma ai ragazzi in qualche modo. Comunque va spiegato, vanno informati. E per gli adulti, teoricamente, questo non dovrebbe servire, invece a volte anche serve. Beh, però ribadisco, nel complesso io non posso che ringraziare tutta la mia comunità per il grande sforzo che ha fatto finora. Continuiamo così, non molliamo, siamo vicinissimi al traguardo, io parlo spesso di ultimo miglio, non vanifichiamo tutto quello che abbiamo fatto, non vanifichiamo il grande impegno che tutti noi abbiamo profuso e continuiamo a comportarci come abbiamo fatto fino a questo momento. Voglio anticipare, proprio rispetto al Covid e anche a qualche scomparsa che c'è stata, che l'amministrazione da quest'anno partirà con un concorso fotografico che abbiamo voluto intitolare alla memoria di Massimo Targenio. Purtroppo la nostra comunità ha perso tanti amici, tanti nostri concittadini che spesso si sono anche fatti valere all'interno della vita sociale, oltre che professionale, della nostra città. Ognuno ha rappresentato, comunque, all'interno di Avellino, per certi versi un riferimento. D'altronde la nostra comunità è fatta di tante piccole storie, di tante donne, di tanti uomini che ci consentono da tempo di essere una città prestigiosa, di una città che è riuscita a venire fuori dal guscio, dall'anonimato. Noi siamo la somma di tante storie, di tanti piccoli eroi, donne e uomini. E noi abbiamo il dovere di ricordare tutti coloro i quali, senza un motivo, purtroppo non ci sono più, perché guardate, perdere la vita a causa del Covid è quasi spiegabile. Però questo ci fa capire anche quanto siamo deboli. Questo ci riporta anche un po' alla realtà, coi piedi per terra, perché a volte noi pensiamo di essere onnipotenti, pensiamo di non poter essere mai attaccati, di non poter mai soffrire, di essere invincibili. Poi arriva a un certo punto un virus, qualcosa di invisibile e disconosciuto che mette al tappeto, mette knock out il mondo, un pianeta addirittura. Questo ci deve far aprire gli occhi e ci deve far guardare la vita con un'attenzione diversa, deve farci anche approcciare in modo diverso al quotidiano. Bene, io direi che per stasera è davvero tutto. Ho voluto un po' affrontare la vicenda San Modestino, San Valentino, ma toccando anche quello che è un po' più interessa, cioè l'argomento scuole. Chiaramente ci terremo aggiornati e soprattutto vi comunicherò in maniera celere l'avvio delle vaccinazioni che rappresenta l'ultimo tassello che ci mancava per imboccare la strada giusta per sconfiggere il virus. Grazie a tutti e buona serata.